Grazie Presidente, grazie a tutti i governi e grazie al Presidente e al nuovo Assessore Grazie Presidente I campieri sono considerati un'aspettativa perché sono coloro che ci mutano e non l'emergenza. Sono comunque un problema che comunque a Roma ci vede purtroppo in prima vista, il primo piano per quanto riguarda la nostra posizione e i posti in particolare viene come il municilio secondo dopo in via. Quindi abbiamo la quarta percentuale di salve slot per lungo lo che abbiamo. Perché parliamo di tutto quello che abbiamo? Perché finalmente è arrivata l'ordinanza del silenzio che riduce il raggio di apertura delle slot a 8 ore, dalle 9 alle 12 civili. Questo proprio per andare a intaccare evidentemente quelli che sono gli effetti della mutomatia. Voglio ricordare che soltanto con un paio di dati vengono raccolti attraverso le macchinette soltanto a Roma 5,4 miliardi di flanno. Quindi pensate a quello che può significare basta di libere questo numero, del numero di dati vengono, ma in particolare abbiamo una cifra che serviva intorno a 2.500 euro per la famiglia. Quindi è un problema veramente grosso e grave che poi dall'altro anche in commissione stiamo cercando di striscerare. faremo quindi una volta che è un nuovo assessore, un piano sul coro anche sulla manifestazione perché noi già i primi di marzo abbiamo approvato una soluzione che prevedeva l'uso di bambini, caffè, ma sopra in tutti i miei locali che all'interno non davano occasione di avere esorte macchine, non davano opportunità di giocare con i dati pinci che non avevano l'interno a confiudere l'Europa sicuramente uno degli altri sicuri che avevano mai. Quindi questo per dire che comunque noi abbiamo sempre una forte attenzione anche con la commissione su questo problema, dobbiamo ancora di più assare la stagione, dobbiamo cercare di fare in modo che questo principio sia avanguardia per quanto riguarda la lotta all'automatia e per questo dobbiamo cercare di presto a mettere questi adesivi nelle sale dei padri e che riterremo più in corso. Oltre a questo, volevo in qualche modo ricordare, oggi pomeriggio, alle 18, abbiamo un importante evento a chiostro per quanto riguarda le poesie, abbiamo diramato il titolo grazie agli uffici e anche a tutti i centraziani e tutte le associazioni, quindi penso che sarà una divertente oltre che importante occasione di stare tutti quanti insieme. E per ultimo volevo fare un passaggio veloce perché la settimana scorsa ci siamo stretti praticamente tutti quanti insieme per una promessa dello sport che purtroppo promessa rimaneva perché era rimasta sull'asfalto ma con il Presidente della Commissione di Unite Sociali e Sport oggi potrei fare un applauso per il suonare al ragazzo che si chiama Filippo Torico che praticamente non è rimasto promessa ma è esploso il pensiero ed è il primo italiano che lo ci sta a scendere sotto ai 10 secondi. Non è rassismo, vorrei ricordare un'altra cosa che è il terzo più bianco, che ci sono tutti i bianchi che so che c'era un centenario che sono quindi probabilmente anche questo è un discorso di sanzismo, un discorso di ricapacità e di corretto che comunque la storia. Grazie.